Presidente Petrosino, facciamo un punto su questa giornata molto particolare che nonostante il tempo inizialmente incerto è riuscita a creare una bella situazione di confronto tra i giovani Confindustria. Sì, diciamo che il tempo non ci ha scoraggiato, non era quello che immaginavamo però probabilmente tenerci freschi ci ha aiutato a ragionare meglio. È stata una giornata per me ma anche confrontandomi con gli altri colleghi molto interessante, le occasioni di conoscenza delle proprie aziende a livello commerciale sono sempre incontri interessanti perché nonostante la vicinanza che ci accomuna con la rappresentanza con Confindustria spesso si finisce per non conoscere le proprie realtà, le proprie realtà aziendali appunto e questo è un elemento da sviluppare, è stata la vera ragione con la quale abbiamo partorito questa idea tutti insieme nel momento in cui la proposta Susanna era stato un esperimento vincente sul Napoli, era stato fatto anche su altre territoriali, abbiamo pensato che era giusto, corretto allargarlo al perimetro regionale dal momento che non c'è una vera divisione territoriale all'interno della regione, poteva essere utile, appunto, è utile e lo confermiamo oggi, confrontarci in maniera trasversale tra settori per cercare di capire al di là dei rapporti commerciali anche eventuali partnership o scambio di conoscenze che normalmente non sono un terreno che si affronta in Confindustria paradossalmente.